Qual è la prima volta che sono venuto a Roma? Allora, essendo straniero tedesco, la prima volta che sono venuto a Roma sono subito andato al Pantheon e stare sotto quel buco della cupola nel Pantheon è per me un luogo nel tuo cuore, ma magico. All'epoca quando sono tornato sempre a Roma sono sempre andato lì, quindi il Pantheon e l'Oculo Lys della cupola per me è il centro di Roma e quindi per me è anche un luogo di cuore. Un saluto, un grande saluto di cuore ai miei amici di Lazio Firm Commission.